Se non ti attacchi ormai lo sai mi sto spegnendo Fai veloce perché sono al 2% E' un momento no che non ci sto più dentro E pensavo, e pensavo baby Bella raga, Sinatra è oggi certificato disco di platino E' il sesto album della mia carriera, sesto essere certificato disco di platino dalla Fimi Voglio ringraziare Jacopo Pesce, Island, Paola Corradini e Rossana Moro specialmente Grazie anche a tutti i producer, tutti gli artisti che mi hanno aiutato a realizzare questo album Specialmente a DJ Shablo, Charlie Charles e il mio team BHMG Inoltre ringrazio tutti quelli che l'hanno streamato, l'hanno comprato fisico E mi hanno aiutato a raggiungere per l'inesima volta questo risultato Per voi ci vediamo in tour, iniziamo il 16 marzo dal forum La data sarà epica e non fatevelo raccontare Dopo tutto questo buonismo e questi ringraziamenti Io volevo invece dedicare anche un grande affare in culo a tutti quelle merde che hanno dubitato E hanno detto no però non si sa questo album qui e là Invece il sesto album che avevo picchio in culo Top In questi tempi l'animale sta migrando, è migrato da Facebook Un tempo regno animale a Instagram L'ignorante, il saccente, il nazista, l'omofobo E comunque a tutti gli amici che hanno figli molto piccoli Ma non dateglielo Instagram ai vostri figli di 5, 6, 7 anni Perché capisco che sono posseduti dal demone della trap Ma toglietegli lo suo telefonino E dai Di solito io parlo solo di musica Non voglio fare il professore, l'influencer, finto intelligencer E il social, il sociale social Però ho visto tanto primitivismo, tanto razzismo Tanta 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 ignoranza E quindi mi sono preso veramente veramente male Mi fermo qua visto che i tempi penso che sono così bui Dove anche dobbiamo iniziare a stare attenti anche a quello che diciamo Specialmente gli artisti, specialmente noi rapper Perché qualunque cosa diciamo può anche essere usata per infamità Grazie